Sto seguendo, Alessandra Clemente ha sentito anche la moglie, stiamo in contatto, come sempre non lasceremo solo nessuno, senza giudicare nessuna storia, nessuna famiglia, nessun contesto. Il nostro obiettivo è sradicare la camorra e la violenza da questa città, quindi lavoriamo in tutta la città, stiamo lavorando a forcella da tempo, in tutti i quartieri, lo sto facendo anche io personalmente, non faremo mancare il nostro sostegno.